Gentili telespettatori, buona giornata. Patrick Zaki, lui è un astro che vorrebbe essere nascente nella sinistra e sta facendo di tutto per finire in Parlamento o all'Europarlamento. E vedrete che quando avrà i documenti in regola, ci riuscirà, perché ormai è entrato nelle grazie dei sinistrati. Non si può dire? Non si può dire sinistrati? Di sinistri, quelli di sinistra, no? Stiamo lì a parola, insomma. Oggi ci racconta il buon Zaki, l'ingrato, quello che non ha ringraziato chi lo ha tirato fuori dal carcere, no? Ci rivela perché ha rifiutato il volo di Stato. Perché ha rifiutato il volo di Stato? L'ha rifiutato perché non voleva incontrare né Meloni, non voleva che si presentasse lì Salvini, Giorgetti, Tajani, Meloni, non voleva vedere nessuno del governo per non essere accomunato, perché il suo obiettivo è quello di entrare in politica a sinistra e se lui andava a ringraziare la Meloni, gli avrebbero detto hai ringraziato la Meloni? Underlecht, vai via. E allora lui si è guardato bene e così è diventato un ingrato. Un ingrato. Lo abbiamo visto l'altra settimana che era una manifestazione in giacca e cravatta col caldo che faceva, tutti in maniche corte, lui giacca, cravatta, camicia, perché deve farsi vedere. Sta cercando di vendersi, sta cercando di fare l'arrampicata sociale, com'è riuscita a tanti in questi anni. Ma lui ci tiene a smarcarsi da tutti, tranne forse da quel mondo che critica in modo aspro e duro. Esercita il suo diritto di difendersi. Torna sull'argomento che ha fatto parecchio discutere qualche mese fa. Il volo di Stato rifiutato. Ma attenzione, non è il volo di Stato, parliamoci chiaro. Lui poteva venire anche col deltaplano, poteva venire come cavolo voleva, anche con il teletrasporto di Star Trek. Il punto è, dire no guarda non vengo col volo di Stato perché voglio spendere i miei soldi, non voglio gravare sul governo italiano, non è il punto del volo di Stato. Il punto è che quando poi arrivi, anche col treno, il deltaplano, il sottomarino, la prima cosa che fai è prendi il telefono e dici Meloni, presidente, grazie per avermi liberato, le sarò riconoscente per sempre, quando passo da Roma la vengo a trovare, citofono, ci prendiamo un caffè. Basta. Finito lì. Invece l'ingrato ha calcolato, no perché poi... Bene. Andiamo avanti. Zacchi era andato in tutte le tv a dire che non voleva usare i soldi dei contribuenti italiani per farsi pagare un volo. Ma era una scusa giusta, no? Ha trovato la scusa. E ha preferito acquistare un biglietto di linea, una scelta che fu una sorta di schiaffo all'Italia che tanto ha fatto per far tornare l'ingrato alla sua vita normale tra gli studenti di Bologna. E ora lo stesso Zacchi, orfano dell'ospitalità di Fabio Fazio, ma anche di altre presentazioni del libro che hanno detto no, no, non lo vogliamo non venire, ritorna proprio su quel punto. Strano che torna su quel punto. Quando ha visto il mondo di sinistra, dopo le sue dichiarazioni su Israele, allontanarlo, allora adesso cerca di recuperare, dicendo no, ma volevo tornare lì sul volo di Stato. Ecco. E dice così. Perché non ho accettato quel volo? Perché sono un attivista e voglio essere libero di criticare qualsiasi governo. non ho accettato il volo di Stato per non dire grazie e quindi per poter poi criticare anche il governo attuale, come ha fatto andando in piazza sabato scorso. Se lui prendeva il volo di Stato, arrivava e telefonava la Meloni e andava a prendersi un caffè, nella sua mente non poteva poi più andare. E qui si vedono tutti i limiti di questa persona. Perché? Tu puoi prendere il volo di Stato o no, arrivi, ringrazi la Meloni per averti liberato e poi il giorno dopo puoi andare in piazza a criticare le scelte del governo. Sono due cose differenti. Io ringrazio la persona, Giorgia, di cognome Meloni, che senza di lei sarei ancora in carcere, la ringrazio, però dico guardi grazie, però guardi presidente, io politicamente la penso diversamente da lei, la ringrazio infinitamente, siamo amici adesso, però sappi che io non la penso come lei politicamente, quindi magari mi troverai in qualche manifestazione contro il suo governo, ma sappi che io con lei ho ormai un certo affetto perché mi ha liberato. Questo poteva essere anche un colloquio secretato, nel senso, lui poteva dire alla Meloni, guardi, la prego di non riferire il contenuto del nostro incontro, ci siamo incontrati, punto e basta, senza dirle che io la ringrazio, però guardi che magari mi troverà nelle piazze. Lui faceva il suo figurone, andava a ringraziare e poi il giorno dopo poteva criticare il governo, ma la sua paura era troppo forte. Se ringrazio la Meloni, se prendo l'aereo di Stato, poi come faccio adesso che sono diventato famoso? Perché è tutto lì, la sua famiglia gli avrà detto adesso che sei famoso sfrutta questa cosa, così ti sistemi, diventi un politico in Italia e sei sistemato per tutta la vita. Chiaro com'è andato, no? Quindi lui non conosce ancora la differenza tra istituzioni e partiti politici. La Meloni rappresenta l'istituzione, la presidenza del consiglio, rappresenta il governo del paese. Quindi una cosa è andare a ringraziare il capo del governo e poi il giorno dopo puoi andare in piazza a protestare per quello che vuoi, in giacca e cravatta, così ti fai vedere. Chiaro? Va bene. Infatti l'articolo che ho letto su Libero Quotidiano dice le stesse cose che dico io. Poteva accomodarsi sul volo di Stato, poteva andare a citofonare alla Meloni, andare lì ad abbracciarla, grazie Giorgia, però dirgli guardi Giorgia, guarda Giorgia, guardi che io però domani vado giù in piazza perché la penso diversamente da lei, la ringrazio ma la penso diversamente da lei. Se trovate l'articolo sul Libero Quotidiano racconta le stesse cose che vi sto dicendo io. Ricordiamoci che neanche Mario Draghi e il suo governo hanno lavorato per liberare. Infatti lui dice che neppure Mario Draghi e il suo governo hanno lavorato per la mia liberazione. e ribadisco che sono grato all'Italia. No, devi essere grato alla Meloni, non all'Italia. L'Italia è un pezzo geografico del mondo. Non devi essere grato all'Italia. Devi essere grato a Giorgia Meloni, non l'Italia. Perché non ti ha liberato né Draghi, né la Schlein, né le piazze a Bologna, né i cartonati, né le bandiere sui balconi. È stata per intercessione di Giorgia Meloni. Lo vuoi dire, Giorgia Meloni? È grazie a lei che sei libero. Draghi non ti ha liberato e nessun altro. È stata la Meloni. Grazie a tutti e arrivederci a presto.